Abbiamo già menzionato che abbiamo bisogno di serbatoi, altre volte vi ho detto che si chiama un serbatoio di compenso, oggi andiamo a vedere di che cosa si tratta. Questa è una parte, un'altra linea rappresenta dall'alto, un sistema di serbatoi particolarmente che sono interessanti. I serbatoi generalmente oltre a fornire il volume di acqua necessario servono anche per stabilire il piano di acqua, questo l'abbiamo visto anche nelle lezioni precedenti quando abbiamo parlato della nozione. Che cosa serve il serbatoio? Abbiamo visto che la domanda di acqua dell'acquedotto è variabile nel corso della giornata e anche in realtà variabile nel corso dei giorni della settimana. I serbatoi servono appunto in primis a compensare questa variabilità. La rete di acqua dell'acquedotto si progetta su una portata media, poi i serbatoi e in particolare anche l'afflusso delle opere di captazione viene calcolato relativamente a una portata media, poi i serbatoi compensano l'afflusso delle ore di massimo consumo avendo immagazzinato un volume di acqua nelle ore di minimo consumo. Un'altra funzione che assolgono i serbatoi è quella di essere dei serbatoi di riserva, cioè supponiamo che noi dobbiamo disconnettere l'opera di adduzione dalla rete di distribuzione. Questo significa che dalle opere di captazione non arriva più acqua. Il serbatoio o i serbatoi devono comunque essere in grado di soffrire per un certo numero di ore, indicativamente un giorno, la richiesta di acqua della città, del quartiere, del paese che le stanno servendo e infine la terza funzione è quella di fornire acqua durante l'antincendio. Le portate che fluiscono nei tratti dei tubi sono nell'ordine dei pochi litri al secondo. Quando però noi azioniamo un idrante, questo idrante come minimo richiede due litri al secondo, che è una quantità di acqua che è dello stesso ordine di grandezza di quello che richiederebbe l'utenza. Quindi nel caso di un incendio il funzionamento di due idranti in contento oranea potrebbe comportare di per sé il consumo di tutta l'acqua disponibile. In questo caso il serbatoio deve poter far fronte a quest'acqua necessaria in più per lo spegnimento degli incendiosi. Quali tipologie di serbatoio abbiamo? Beh questa immagine è tratta da libro e già detto, vedete ci sono due categorie grandi di serbatoi, quelli che sono semplicemente serbatoi, dove sono in questo caso i volumi in cui viene immaginata una parte dell'acqua, dopo hanno una certa struttura e andremo anche a vederla, sono quelli rappresentati in alto. In basso sono rappresentati di solo serbatoi sospesi, nell'ultimo caso in basso a destra, oppure serbatoi con torino piezometrico nella parte a sinistra in cui un sistema di pompaggio carica una parte dell'acqua sul torino piezometrico e questo serve per assegnare la piezometrica a tutta la rete. L'altro sistema prevede un'autoclave, un autoclave ha le stesse funzioni di ogni piezometrico, questo fornisce il carico e vedremo più in là come funzionano le clave, sempre quando parleremo degli edifici perché si possono mettere anche delle autoclavi a presidio degli edifici, quelli superiori ai tre piani e anche questo comunque serve a fissare la piezometrica. Diciamo che in questo momento si comincia anche a fare a meno dei torini piezometrici e si riesce a pompare direttamente in rete con un utilizzo adeguato di pompe che abbiano anche magari un certo numero adeguato di pompe che siano ridondanti rispetto al sistema che vanno a servire, per cui si può anche fare a meno in teoria del torino piezometrico. I serbatoi, come abbiamo già visto, si chiamano di estremità e di testata. Di testata come quello che vedete in alto, cosa succede? C'è una sorgente che ha un suo carico piezometrico e si è una batteria di testata che qui comunque prevede una parte in vuota, assegna la piezometrica che qui è segnata come se fosse una linea sull'abitato. La cura più alta è la piezometrica nelle condizioni di minimo consumo. La piezometrica più alta si ha quando nelle condizioni statiche, lo abbiamo visto prima anche quando abbiamo mostrato la piezometrica sulla rete di distribuzione. la piezometrica rimane orizzontale in quel caso qui a questo livello. Quando c'è consumo c'è un decremento della piezometrica che è legato al quadrato della portata che è consumata. Nei momenti di massimo consumo la piezometrica è in B, nei momenti di minimo consumo la piezometrica in alcuni casi il cordino piezometrico è posto dall'altra parte rispetto all'abitato e rispetto all'opera di captazione. In questo caso qui l'opera di captazione assegna la piezometrica in questa posizione dell'abitato. Quindi la piezometrica è statica a questo punto. Durante le condizioni di minimo consumo la piezometrica è alta e si congiunge con il livello del serbatoio. Quindi cosa significa il fatto che ci sia una piezometrica di questo tipo? Che l'acqua si muove da sinistra verso destra e in particolare l'acqua dell'assorgente attraversa l'intero abitato e va a riempire il serbatoio che c'è qui sulla destra. Nel momento di massimo consumo però l'assorgente non è in grado di dare acqua sufficiente all'abitato. In questo caso anche la piezometrica come vedete la piezometrica qui ha un minimo all'interno dell'abitato. In queste condizioni il serbatoio di estremità fornisce acqua all'abitato. Quindi il serbatoio di estremità si carica nelle ordine di minimo consumo e invece fornisce acqua alle abitazioni nelle ordine di massimo consumo. Quella precedente in realtà corrisponde ad una rappresentazione piuttosto unidimensionale dell'abitato. Qui vedete per esempio l'abitato di Padova e vedete il sistema di serbatoi dell'abitato di Padova e ci sono e qui provengono acque da varie direzioni evidentemente e quindi la situazione che avete visto prima è una situazione molto più dinamica, molto più tridimensionale e alcuni serbatoi potrebbero trovarsi nelle condizioni di essere serbatoi tra virgolette di testata in alcune condizioni, cioè di svolgere in trame le funzioni a seconda della distribuzione spaziale dell'aslusso. In particolare qui vedete che scritto in alto a sinistra c'è condotta di 900 mm. L'acquadotto di Padova ha un'opera di abduzione molto lunga, 35 km, che prende acqua e lì al bosco di Villaverla si chiama, vicino agli insegnanti due ville, ma è Villaverla ve lo posso dire, visto che è il mio paese natale in questo posto. E quindi l'opera ha una sua complessità spaziale che non è semplicemente una cosa monodimensionale. Qui è chiaro che queste rappresentazioni sono legate al fatto anche degli strumenti di calcolo che si avevano quando sono stati concepiti i nomi e le cose. Gli strumenti di calcolo lì erano tra i computer, quindi adesso voi invece avete decisamente a che fare con una rete complessa che ha la sua distribuzione spaziale che potete adattare completamente, per esempio con i software che avete disponibili. Servatoio di potenso. Come andiamo a controllare il volume di riserva? Beh, il volume di riserva, qui abbiamo chiamato capacità di riserva con C con R, che cos'è? Lo possiamo ottenere come la portata giornaliera di progetto, Q cappello G, e poi andiamo a vedere qual è la portata giornaliera di progetto che si manifesta nel giorno di massimo consumo e nell'oro di massimo consumo. per esempio, ter 86.400 che sono in secondi in un giorno diviso 1000 se la portata è data in litri al secondo, come di solito avviene. per esempio, noi abbiamo una popolazione di 3000 abitanti, ad ogni abitante qui assegniamo, per farla semplice, una dotazione idrica di 275 litri al giorno. Allora, la portata che viene assegnata è la popolazione per la dotazione idrica diviso 86.400 che rappresenta il numero di secondi in un giorno e corrisponde a 9,5 litri al secondo. La portata al giorno di massimo consumo è la sentire della portata media che è stata calcolata sopra questa qui, che però io chiamando Q con M, è moltiplicata per un coefficiente di afflusso. questo coefficiente di afflusso in questo caso, sì, coefficiente di afflusso, coefficiente di punta giornaliero. Questo coefficiente di punta giornaliero, in base alle tabelle per questa popolazione, è stato 3.400 che è moltiplicata per 9,5 da cui ci muove un uguale 19 litri al secondo. La capacità di riserva allora che cos'è? 19 litri al secondo per 86.400 diviso 1.000, 1.642 metri cubi. È abbastanza, è un bel volume. Sempre ragionando sulle dotazioni, potremmo fare lo stesso calcolo per una città di un certo numero di abitanti, di 200.000 abitanti, diciamo che potrebbe essere Modena, per esempio, una città di 200.000 abitanti, un po' più grande di Trento. Allora, secondo le tabelle che abbiamo, a Modena dovrebbe essere assegnata, ma qui forse la cosa è un po' esagerata, 600 litri abitanti al giorno, una dotazione di litri abitanti al giorno di 600. Questo perché ci sono vari servizi e cose di cui ero parlato la volta scorsa. Conseguentemente, al solito di scannola la portata è lo stesso, 200.000 per 600 e fa 1.388,8 litri al secondo. L'ho lasciato il 1,8 perché dopo va ulteriormente moltiplicato. Per il coefficiente di punta giornaliero, esattamente come prima, però qui, siccome la città è più grande, il consumo e i coefficienti di punta sono più bassi. I coefficienti di punta sono due per le unità piccole, diciamo. Attendo, no, 1 man mano che la città diventa più grande. E allora qui è 1,5 per 1.388 fa 2.083 litri al secondo. A questo punto il calcolo banale, il calcolo del volume di riserva, che in questo caso è 180.000 metri cubi. Vedete, 180.000 metri cubi prima 1.600 metri cubi. Quindi è ben superiore al rapporto tra la popolazione delle due città. In ogni caso il volume di riserva si calcola in base a questo tipo di considerazioni. Per esempio, potremmo ritenere che per la città di 2.000 abitanti, se il periodo di riserva siano comunque troppi, vorremmo magari poterla calcolare ugualmente per 250-300 litri al secondo. Magari se è una città in questo momento, in questi luoghi, noi conosciamo quali sono i consumi tipici e siamo in grado di dare dei numeri che non derivano da statistiche che sono anche in qualche modo obsoleti. Per esempio, sul prossimo atletto, noi sappiamo che l'abitazione in questo momento è di circa 250 litri al secondo per abitante. Questa comunque è una città ragionevole. Vi ho detto che dobbiamo fornire anche acqua nei momenti di incendio. Allora, per il momento anti-incendio, un riferimento interessante è la normativa che ci dice che si divide in tre classi A, B e C o 1, 2 e 3, la seconda dei gusti, la necessità di acqua durante un intervento di anti-incendio. Per esempio, nelle scuole case, quando si tratti di zone residenziali in cui ci sono abitazioni normali, potremmo dire che l'area, per esempio, è in classe A, metto anche i luoghi di puto qua, quindi non so se vogliono che si infuncino le chiese o le moschee o cose di questo tipo, ma probabilmente questa è della classe A, comunque per distranda, perché ci sono tutti i luoghi di puto basso, no? che per ogni lante, una lancia, prendiamo una laminare di 45 millimetri, 2 litri al secondo che funzionino con 2 bar per mezz'ora, 30 minuti, ecco la cosa. Quindi, in questo caso, con tutti questi dati, noi siamo in grado di conoscere quattro volumine serve, una semplice moltiplicazione. Se invece l'abitato è classificato nella categoria B, qui gli idranti che sono messi in funzione sono sempre 2, però non a 2 litri al secondo, ma a 5 litri al secondo, e non per 30 minuti, ma per 60 minuti o un'ora. Infine c'è una categoria C, ma in questa categoria C possono entrare varie, generalmente le categorie crescono con anche la disposizione alla rischio, cioè, se per esempio noi abbiamo un centro storico fatto di case in legno, queste cadono sicuramente nella categoria C. Se siamo in un luogo dove sono presenti infiammabili, siamo nella categoria C, piuttosto che nella categoria A. In questo caso, dice, non meno di 6 idranti con una lancia da DN70, 5 litri al secondo per ogni idrante. In alcuni casi, peraltro, una visita preventiva dai vigili del fuoco vi consente, per esempio, di avere anche condizioni intermedie, per esempio, due idranti da 7 litri al secondo che funzionino tra due ore. Come in questo caso. I idranti sono questi, ovviamente tutti siamo abituati a vederli nelle nostre città, magari non li vediamo, ma nei film americani che vediamo in tv, li vediamo ancora più spesso. Questi sono idranti posti fuori, fuori strada, ci sono anche idranti che sono posti dentro un pozzetto, non possono un pozzetto. Normalmente si preferiscono questo tipo di idranti perché sono visibili, si sa dove cercarli, e anche sono direttamente accessibili, cioè un idrante, sconiamo è venuto il Presidente della Repubblica, che mi ha preso la settimana scorsa. Nei parcianti che ha percorso, i pozzetti sono stati tutti sigillati, per motivi di sicurezza. Allora, sono stati sigillati, adesso, il giorno dopo, succede un incendio. Il pozzetto è ancora sigillato, arrivano, perché arrivano gli vigili del fuoco, e hanno le autoboti che magari sono cariche anche di acqua e possono funzionare, ma se devono aprire un idrante nel sottotolo, devo prendere il pozzetto, tirare via i sigilli e quindi si perde del tempo. Poi qualche volta qualcuno gli asfalta addirittura i pozzetti, quindi non sono decisamente più accessibili. Quindi questi idranti, diciamo, fuori suolo, sono, in qualche modo, quelli che, per meno che non ci siano altre imitazioni, si preferiscono a questi movimenti. Piccolo centro di 3.000 abitanti. 3.600 sono il numero di secondi in un'ora, in un'ora, il viso voluto, 1.000, e la formula per calcolare la capacità di incendio, cioè il numero di abitanti per portata fornita per la durata della fornitura. L'ongomale di idranti, non di abitanti. Quindi, in questo caso, idranti non abitanti, nella slide 2.0. In questo caso, vedete, il calcolo è 43 metri cubi. Ora, ricordiamo i volumi che avevamo ottenuto prima. Nel caso del piccolo ocendio di 3.000 abitanti, se fosse 3.000 abitanti, è l'esempio che avevamo fatto prima, però il volume che ottenerevamo era di 1.650 metri cubi. 50 metri cubi dell'altro incendio sono una parte desiguale rispetto a quella quantità. quindi non è che il volume anti-incendio vada a modificare in maniera rilevante quel calcolo, anzi, poi vedremo nella formula finale, questo volume anti-incendio tende a scomparire. Allora, uno potrebbe dire, beh, in questo caso, in questo caso, potrebbe essere più rilevante per una città di popolazione maggiore, ma per una città di popolazione maggiore, in questo caso, abbiamo usato una formula che dipende dal numero di abitanti, in realtà dimensionando il numero di idranti sul numero di abitanti e così via, ma anche qui guardate il risultato finale, prima avevamo 180.000 metri cubi e la trazione anti-incendio è comunque marginale, 1.500 metri cubi rispetto al volume che avevamo detto. quindi la conclusione che possiamo trarre in questo momento è che se noi, per esempio, andiamo a dimensionare il volume di riserva o il volume di incendio, possiamo direttamente dimensionare per il volume di riserva e in qualche modo trascurare il volume di incendio, a meno che non ciògano delle dimensioni di altro tipo che possono interrompere. veniamo a inserire il volume di compenso, volume di compenso, noi abbiamo un serbatoio, l'equazione dei serbatoi, questa si chiama anche, ma essendo la storica funzione di comunità, la variazione della capacità del volume del serbatoio nel corso del tempo è data dalla fornitura Q con A che arriva dall'adultrice, ovvero la portata di progetto del nostro sistema che le opere di captazione sono supporte a fornire meno Q con U che sta la portata richiesta dall'altezza. se integro quell'equazione lì trovo che la capacità del mio serbatoio è l'integrale fra 0 ad un certo T con I che potrebbe essere per esempio un giorno, 24 ore, della Q necessaria all'utenza su tutto il tempo o meno Q a t con I. Niente di particolarmente complicato, anche una banalissima integrazione di quell'equazione e in modo più stupido possibile. E allora il problema è che in generale questa Q, noi non la conosciamo, perché la funzione di richiesta dell'utenza, beh, se stiamo progettando un acquedotto nuovo, noi l'esigenza dell'utenza per quella popolazione lì specifica non la conosciamo, certamente abbiamo un insieme di casi, poi magari ne compare anche qualcuno, in cui più o meno sappiamo come vanno le cose, per gli abitanti, possiamo farci un'idea di cos'è questa Q. Esistono poi varie formule empiriche come questa, per esempio, in cui si fa riferimento comunque alla portata di massimo consumo moltiplicata per vari coefficienti. Il volume complessivo, prima di tornare sul volume complessivo, prenderà poi alla fine il volume complessivo del mio osservatorio come il volume richiesto della capacità di compenso più il massimo tra la capacità antincendio e la capacità di riserva. Ma adesso andiamo a cercare di capire meglio com'è fatto questo volume di compenso. Qui è un andamento particolare, anche se ha certe tipicità di due picchi, uno alla mattina e uno a mette giorno, con un mini picco verso la sera, del consumo di un centro abitato. non durasse la notte, l'altra tipicità è il funzionamento quasi nullo con le ore della notte. Questa è la portata media. Questa portata che sta sopra della sua portata media è il volume integrale di questa quantità, era l'integrale che pariva prima, è un volume che nel slide di destra ho chiamato V2, ecco è il volume che io devo immagaginare nel caso del mio servatorio per compensare appunto questa domanda nelle ore centrali. Durante le ore di minimo consumo evidentemente avrò dei momenti in cui il consumo è minore dell'apportamento, in particolare qui rappresentate da questi volume 1 e 2 3, che se quella disegnata in rosso è veramente la portata media devono essere tali che V1 più V3 deve essere 1 e 2. Questo per definizione è la portata media. Quindi la situazione è questa, se la guardiamo normalmente non viene vista in questo modo, l'andamento delle portate ma viene visto nella forma integrale, cioè l'integrale di quello che avete visto prima. Se noi integriamo le curve che compaiono in questo grafico, cosa succede? La retta costante diventa la retta inclinata che rappresenta l'aumento di volume nel corso del tempo. ed è quello che qui è rappresentato da queste rette che è atteggiata in rosso. L'andamento delle portate qui deve essere integrato, quindi è una funzione sempre crescente e qui è rappresentato dalle curve che vedete rappresentate in blu. qui che cosa succede? Qui sono nelle ore di minimo consumo consumo meno della portata media poi consumo di più della portata media ma alla fine devo se il mio serbatoio è ben dimensionato dovrò fare in modo che se la portata media è ben calcolata la linea blu e la linea tardeggiata rossa devono coincidere agli estremi. nell'ora di minimo consumo se traccio la tangente e la curva blu rispetto all'ora di minimo consumo la differenza tra questa tangente e quest'altra curva tratteggiata vedete in mezzo tra le due rosse è il massimo in baso. l'altra curva tratteggiata è sempre parallela alla curva che poi sarebbe stata questa che è diventata nera la curva di consumo medio è sempre parallela alla curva di consumo medio la tangente al punto di maggiore elevato consumo la differenza tra le due curve rosse in alto e in basso sono il volume di massimo in baso cioè qual è il dimensionamento cioè se noi stessimo progettando il nostro osservatorio solo sulla domanda giornaliera l'escursione giornaliera che noi ci aspettiamo nel osservatorio che espressa in volumi è pari alle differenze di questa curva qua che poi è lo stesso della cosa che vi abbiamo mostrato di qua che è il volume V2 è uguale a volume V1 quindi in ogni caso noi dobbiamo ricostruirci delle curve di questo tipo quando vogliamo cercare di capire qual è il volume del nostro sistema quello che in qualche modo aiuta a fare è una curva di questo tipo perché mi chiede di costruire delle curve di richiesta oraria durante il giorno del sistema in pratica e in pratica costruite una curva di questo tipo certamente voi lo fate in forma ipotetica è una vostra come dire farete dei ragionamenti e stabilirete un'escursione giornaliera nei consumi in funzione alle informazioni che voi avete sul luogo dove andate a progettare e poi in funzione della curva che voi date calcolate la portata media è quasi in un processo che è quasi a rovescio di quello che si poteva fare una volta e relativamente alla portata media poi sapete i volumi che dovete immagazzinare in particolare l'equivalente del volume di 2 a questo punto ci sarebbe stata questa slide qua che invece senti gli altri due slide prima ma va bene come sono fatti i serbatoi beh i serbatoi come sono fatti in realtà li abbiamo visti anche all'inizio sono fatti sono delle opere architettoniche piuttosto semplici dal punto che interessa a me è quello di mostrarvi come sono fatti dal punto di vista idraulico questo per esempio è il primo serbatoio di testante quella che vedete segnata in rosso in alto è l'afflusso di acqua che arriva dalla sorgente l'acqua che arriva dalla sorgente deve poi andare all'interno del serbatoio qui per convenienza grafica si è pensato che il serbatoio sia essenzialmente di forma circolare con due cilindri concentrici e al centro ci sia come una specie di colonna vuota in cui sardano tutte le opere infrastrutturali l'alimentazione del serbatoio normalmente può avvenire sia dall'alto che dal basso e di solito però si fa avvenire dall'alto perché anche dall'alto qui non è mostrata ma dall'alto di solito c'è anche una vasca in cui l'acqua che proviene dalla sorgente cade una vasca di decantazione per far depositare eventuali sedimenti che si siano comunque accumulati e che serve anche poi per l'analisi chimico anche visuale o fattiva dell'acqua e poi per il prelievo dei campioni per vedere il grado di il tipo di trattamento che le deve essere fatto in questo caso può essere fatto qui in questa sede anche il trattamento dell'acqua per renderla potabile con le opportune sostanze chimiche per far sì che l'acqua vada in su cosa bisogna mettere bisogna mettere questa cosa che mi inserisce anche con l'aspetto di frontale che è una saracinesca che impedisce all'acqua di proseguire in questa direzione c'è anche una saracinesca verso l'alto perché viceversa vorremmo magari poter continuare l'acqua nell'altra direzione ma lo vediamo della slide successiva quello che vedete segnato come due certi concentrici è un misuratore importante dice quant'alto sta arrivando in un metro del segretario onde potrà controllare i consumi e il funzionamento dell'acquedotto in alto sia in alto che in bassa di nuovo c'è il sud di due saracinesche e poi c'è la caduta dall'alto dell'acqua ora supponete che noi per esempio dobbiamo fare una manutenzione a questo serbatoio e vogliamo per esempio quindi raccontare il serbatoio ma comunque continuare a servire la popolazione in questo caso chiudiamo questa saracinesca e una volta chiusa questa saracinesca facciamo fluire l'acqua della sorgente direttamente all'utenza anche qui senza l'ambiato di potabilizzazione potrebbe essere rischioso qui naturalmente si assume che la parte di potabilizzazione sia venuta a monte per esempio in prossimità del sole normalmente il funzionamento verso la lutenza viene però secondo questo percorso cioè una presa che è sempre situata vicino al fondo della vasca che ha un'opportuna gratticola un'opportuna filto per comunque impedire che ci siano particolato al sedimento se ancora ne rimango che vale da qui dotto e con l'opportuno il sistema di vedete questa saracinesca è chiuda e questa viene aperta e quindi c'è il flusso verso l'altro dotto gli altri elementi che voi vedete rappresentati rappresentano gli scarichi cioè sempre lo scarico di troppo pieno finché il livello non possa superare il livello massimo della vasca è un scarico di fondo per svuotare completamente il il serbatoio esattamente come un rubinetto come un lavandino nel nostro magno nulla di speciale una cosa importante qui è che è presente una valvola di non ritorno cioè una valvola che consente il flusso solo in una certa direzione noi la rete di acquedotto la progettiamo sempre in condizioni stazionali pensiamo sempre che il flusso dell'acqua sia stazionale anche quando vi ho detto prima consideriamo la variazione oraria dei flussi di acqua però nei momenti in cui noi andiamo a calcolare questo fondo pensiamo ad una successione di flussi stazionari e non consideriamo il transiente che si rendono l'uno e l'altro però questi transiente che possono esistere possono causare delle ombre di flessione per cui anche eventualmente il movimento dell'acqua dall'utente verso il serbatorio questo deve essere impedito che avvenga perché questo potrebbe portare con sé degli elementi inquinanti ad inquinare l'acqua del serbatorio quindi viene frapposta una valvola che nello ritorno voi pensate state facendovi la doccia nella vostra vasca da bagno inserite la vasca nella doccia avviene un colpo d'ariete potente da qualche parte vi viene aspirata tutta l'acqua dalla vasca da bagno questo non deve mai essere naturalmente una esagerazione da cartone animato però questo tipo di effetto che non succede che differenza c'è invece con il serbatorio di estremità nel serbatorio di estremità gli elementi principali sono più o meno sempre quelli sape il fatto che l'acqua non arriva dalla sorgente ma arriva dalla rete di distribuzione perché il serbatorio di estremità sta dall'altra parte rispetto alla sorgente allora in questo caso il percorso è di questo tipo cioè c'è un ambiente dalla rete una serbacinia che si può concludere il servizio e dal solito con il giro dall'alto o dal basso dell'alto queste parti sono esattamente uguali a quelle del serbatoio di estremità di testata nelle ore di massimo consumo però cioè questo era il funzionamento delle ore di minimo consumo quelle in cui il serbatoio si sta caricando nelle ore di massimo consumo invece funziona così cioè si va alla presa attraverso un contatore qui c'è un contatore anche in entrata peraltro dalla presa valvola di non ritorno qui ho fatto la freccia non ho seguito esattamente il percorso complicato ma valvola di non ritorno e si va all'utenza quindi il servatoio di estremità ha questa duplice funzione e forse prima mi ero dimenticato di dire ma dagli scarti di superficie si può andare direttamente va direttamente alla fognatura cioè in questo caso l'acqua non va all'utenza ma va alla fognatura bianca o comunque viene dispersa e quindi questo è il percorso relativo come sono fatti poi in pratica i serbatoi vi ho detto che dal punto di vista costruttivo i serbatoi sono relativamente semplici questo per esempio è un serbatoio circolare i fugi che vedete segnati in tratteggio sono le varie opere di presa che poi escono questi sono i sistemi di saracinesche e evidentemente all'accanto al serbatoio si deve essere sempre una vasca cioè un vano di servizio con tutte queste opere che possono essere manovrate una volta vengono manovrate a mano adesso tutti quei sistemi sono elettroassistibili e qui possono essere comandati anche a me qui vedete altri esempi sempre semplici due altri esempi semplici uno quello si distra certo almeno piaciometrico prima di fornire l'acqua all'utenza cioè l'acqua non viene fornita direttamente all'utenza come succedeva nei casi precedenti ma viene caricata sul torino piezometrico da un sistema di pompaggio e dal torino piezometrico poi fluisce verso l'utenza quindi con il carico che è assegnato dall'altezza della quota della quota del torino piezometrico viceversa il sistema cioè allo stesso modo il sistema con l'autoclave che vedete in alto a destra l'autoclave è un contenitore che assorga in acciaio in pressione in cui viene prodotta la pressione opportuna che poi dà il carico piezometrico attraverso un sistema di monte stabilizzato una una questione relativamente recente se si devono mettere i torini piezometrici o no direi che qui in Trentino non c'è problema di torino piezometrico perché i serbatoi sono sempre in quota e abbiamo sempre a disposizione una montagna una montagnola una un'altra cosa per piazzare a quota fortuna un salvatorio in funzione anche della pietometrica che dobbiamo fornire in pianura però questa cosa è diversa e quando i sistemi di compagio non erano molto reliable molto affidabili si concluivano i torini piezometrici che adesso sono giudicati molto impattanti dal punto di vista visivo e quindi noi siamo abituati quando andiamo in pianura a vedere di tanto in tanto questi torini piezometrici di solito in un paese una torina piezometrica e più recentemente attraverso l'uso di autoclave dei sistemi di compagio che magari sono controllati e gestiti in maniera intelligente si può pompare direttamente l'acqua con un sistema di compagio direttamente con la pressione dovuta questo ha dei vantaggi notevoli perché nel pompaggio si può regolare nelle ore di minimo e di massimo consumo in modo diverso in maniera tale da anche minimizzare per esempio le perdite di acqua all'interno degli acquadoti diciamo che il torino normalmente ha una funzione stabilizzatrice rispetto alle pompe perché per avere un sistema che funziona direttamente sulle pompe noi dobbiamo avere sempre le pompe in funzione mentre per avere un torino piezometrico le pompe possono anche staccare e fin tanto che il torino o il serbatoio in quota può fornire acqua all'utenza e ha una funzione in qualche modo stabilizzatrice della portata è un problema di affidabilità comunque adesso io i torini piezometri li vedo piuttosto cadere piuttosto che crescere in giro per la pianura e quindi significa che man mano nelle condizioni di utilizzo i sistemi sono affidati da ultimo si questo sono progetti fatti in un modo un po' meglio come vedete in un modo migliore che hanno anche sono si progetti che non hanno tutta questa grande difficoltà creatività architettonica però possono essere fatti anche con un minimo di ingegno in questo caso questo è un serbatoio intervato in cui l'interramento serve anche per garantire la tenuta termica del sistema perché noi dobbiamo anche ricordarci che qui i serbatoi devono essere isolati per contenere l'acqua e dopo ne vedremo alcuni esempi per cui l'isolamento magari è fatto con un sistema di per esempio con acciaio zincato o acciaio opportunamente lavorato ma devono mantenere anche una temperatura dell'acqua che sia sufficientemente elevata e con un'escursione termica limitata tra l'estate e l'inverno questi sono due serbatoi circolari accocchiati come vedete con una stanza di manovra poi congunta questi sono altri tipi di serbatoi che sono una copia una rappresentazione di quelli che si chiamano Padova serbatoi di un miliare di metri cubi di acqua sopraelevati di una trentina di metri istruiti in parte in muratura e in parte con immagino che l'interno dovrebbe essere con materiale rivestitivo metallicamente adesso al posto dei metalli si possono usare anche delle resine o delle sostanze murature impermeabili particolari questi sono altri sistemi che hanno anche un minimo di interesse statico visto che voi siete degli ingegneri civili che perché evidentemente deve mantenere in alto qualche migliaio di metri cubi di acqua cominciano ad essere un carico interessante per cui ci sono anche delle strutture che magari staticamente hanno alcuni accorgimenti interessanti questo è il serbatoio in se praticamente quello che interversava una quarantina di cinquantina di anni fa un po' tutta la piadura la parte diciamo anche del stallo è fatto in calcestruzzo armato e il serbatoio in se invece è metallico oppure il serbatoio come se ne vedono soprattutto nei film americani nelle città americane sono questi tipi di serbatoio che sono interamente letali ci sono anche serbatoi di questo tipo che sono peraltro più usati più che per l'acqua i serbatoi di questo tipo contengono di solito gas di questa forma ma ce ne sono anche alcuni che servono che servono appunto lo stoccaggio di acqua in particolare qui dice che è di acqua minerali si può fare anche l'ingegnere civile può fare delle buone architetture questo per esempio è un progetto che poi era quello che rappresenta visto dall'alto nell'immagine iniziale che è un sistema accoppiato di un serbatoio in quota un serbatoio intervato dove poi oltre al sistema complessivo cioè non è stato semplicemente lasciato un serbatoio ma qui sono stati costruiti degli altri servizi per esempio degli uffici dell'esercitura dell'acqua e anche una sala conferenza questa è la tralimetria complessiva che voi vedete è in parte quindi tutto intervato con una specie di cabedio centrale questa è la rappresentazione del tipo di sistema con il torino che viene qua in basso verso il direttore e questo è l'interno visto se è anche quindi un'opera relativamente grazie